Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik, ospite di questa puntata per la prima volta nei nostri studi RockPolitik di Obiettivo News, Claudio Leone. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie per potermi esprimere per quanto riguarda tra l'altro la mia città, Rivarolo Canavese, la mia città da sempre, sono natio, sono di una famiglia rivarolese, non può che farmi piacere e con piacere accolgo questo invito fatti dagli amici Cristian, Magda e Andrea. Innanzitutto Claudio ti chiedo come sta andando questa avventura come consiglia regionale. Ma questa avventura diciamo che tutto mi sarei aspettato tranne che finire in un'emergenza Covid. Questa emergenza sicuramente ci ha penalizzati, avremmo voluto fare molto di più in questo quasi due anni di mandato, come dicevo prima, questa emergenza Covid ha monopolizzato quello che era la realtà piemontese. Abbiamo dovuto correre i ripari, non abbiamo potuto essere in presenza, ma ci sono state, come tutti ben sapete, delle criticità importanti che hanno fatto sì che il nostro programma avesse qualche rallentamento. Però non è che mi voglio giustificare con un rallentamento, mi auguro che questa emergenza finisca nel più breve tempo possibile e che sicuramente la mia maggioranza correrà, noi correremo tutti per andare a rispondere, a dare una risposta importante ai piemontesi che ci hanno votati il 26 maggio di due anni fa. E con notizia degli ultimi giorni, delle ultime settimane, è un tuo nuovo incarico, un nuovo ruolo nel Dipartimento Nazionale Antimafia della Lega. Sì, io innanzitutto ringrazio i miei vertici politici nazionali che hanno voluto puntare su di me come coordinatore regionale del Dipartimento Nazionale Antimafia. Ma questo è un messaggio che noi vogliamo trasmettere ai nostri amministratori locali. Noi abbiamo creato questa struttura per poter sensibilizzare, per poter aiutare quelli che sono gli amministratori locali a capire laddove le criminalità organizzate possono insediarci. Io ad oggi ho avuto la fortuna o sfortuna, calcolate voi, di amministrare anni addietro la città di Rivarolo che tutti ben sapete aveva avuto quella brutta onta di commissariamento per presunti infiltrazioni mafiose. Ecco, quello mi ha insegnato, mi ha fatto capire qualcosa di importante come cercare di evitare certe situazioni, aiutato dai miei colleghi che sicuramente sono più avezzi di me in altre regioni ad arginare questi fenomeni. Abbiamo deciso, anzi non abbiamo, ma hanno deciso a livello nazionale, che ahimè non ne faccio parte, hanno deciso di sensibilizzare fortemente i territori nominando un referente per ogni regione. Io sono il referente della regione Piemonte, creerò, stiamo creando una struttura con amministratori locali, con ogni responsabile per ogni provincia piemontese. Ecco, dentro un'emergenza sanitaria in cui le incertezze sono sempre più grandi, più importanti, quanto è il rischio che la criminalità organizzata si infiltri in maniera importante nella nostra società e nella nostra economia? Guarda, io nella mia esperienza politica ho capito che la criminalità organizzata, dove non c'è la legalità, nasce l'illegalità. Io a questo tema mi vorrei dopo magari riallacciare anche al discorso del gioco lecito. Noi abbiamo capito che quando lo Stato latita, lo Stato c'è un po' di meno, ecco dove si insedia le criminalità organizzate. Questo è veramente il primo messaggio che vorrò portare ai miei colleghi che faranno parte di questo gruppo di lavoro piemontese. Tutto dove c'è giro di danaro, tutto dove non si ha una conoscenza capillare, un controllo capillare, c'è il rischio forte di insediamenti di criminalità organizzate. Ecco, come ben sapete, Claudio Leone si è molto battuto per la riforma del gioco lecito. Ecco, oggi dovrebbe arrivare in giunta il nuovo DDL. Ci vuoi spiegare bene passo per passo come siamo arrivati a questo punto? Sì, esattamente, Cristian, hai centrato l'obiettivo. Io proposi due PDL, l'ultima la PDL 99 che andava nella direzione del riportare quello che era legale prima. Cioè prima dell'entrata in vigore della legge 9-2016 c'erano degli imprenditori che in modo legale, e voglio ribadire in modo legale, hanno investito in un mondo che gli è stato tolto. Gli è stato tolto con l'entrata in vigore della 9-2016, pensando di risolvere il problema del gioco patologico, del malato patologico. Ecco, a distanza di tre anni, quattro anni, in base agli step dell'entrata in vigore di questa legge, ci siamo resi conto che cosa ha oggi ottenuto? Sono quasi 5.000 posti di lavoro in meno, oltre a spalancare le porte dell'illegalità. Basti vedere, non lo dice Claudio Leone, non lo dice la Lega Salvini-Piemonte, non lo dice i vertici della Lega, ma lo dice la Guardia di Finanza, lo dice la CGA di Mestre, dove ci fanno un'analisi attenta di quelli che sono i posti di lavoro persi, e di quello che si è spostato nel mondo dell'illegalità, guardando i sequestri che sono fatti dalla Guardia di Finanza stessa. Ecco, la minoranza si batte molto, diciamo, sull'assistenza verso i ludopatici, verso le persone che soffrono di questa brutta malattia. Ecco, c'è in questo nuovo disegno di legge un'idea per affrontare questo problema? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il disegno di legge che deve assolutamente coprire quello che è il mondo del malato ludopatico va implementato. Il mio collega, il professor Stecco, sta analizzando tutto quello che è possibile fare per contrastare, per aiutare chi è in questo momento con queste problematiche di ludopatia data da gioco. Però non dimentichiamo che il contrasto alla ludopatia oggi non ha dato quei risultati che si sperava. Io ritengo che un percorso sia finito quando il malato è guarito. Ecco, oggi ho fatto molte domande, quante sono i malati guariti? Ahimè, non ho avuto delle risposte convincenti. Noi riteniamo che questo sistema vada cambiato, vada ampliato, vada migliorato, vada modificato. Perché tutto si può fare, tutto si può anche correggere. Io penso che nessuno abbia la bacchetta magica, ci si può anche sbagliare. Io penso che alle volte dire ho sbagliato, ho fatto una legge sbagliata, non sia un disonore, ma un onore per chi votò quella legge in Consiglio regionale, nei vari consigli, a oggi dire questa legge va rivista, va rifatta. Ce lo chiedono i sindacati, le tre forze, le tre categorie sindacali ci dicono di mettere mano alla 9-2016. Ce lo chiedono le migliaia di persone intervenute in Piazza Castello e che quasi quotidianamente presidiano sotto Palazzo Lascaris, ci dicono ridateci, fateci lavorare, fateci lavorare nelle legalità. Ecco, quando un occupato, quando un imprenditore, quando un dipendente chiede all'amministrazione fateci lavorare, non spostate il mondo del legale all'illegale, ecco questa deve essere la risposta che da sola deve convincere qualsiasi amministratore politico a dire ho sbagliato strada, devo cambiare, devo invertire la rotta. La lega l'ha capita, io personalmente ho presentato una PDL che va in totale contrasto con la legge 9-2016 che va a riscrivere le regole. Voglio aggiungere una cosa semplice, terra a terra, per far capire quello che secondo me è sbagliato. Io parlo, passatemi il termine, ho una deformazione, mi ritengo un piccolo imprenditore prestato alla politica. Io cominciai a fare l'imprenditore commerciale a 19 anni. Ecco, io costruisco nella legalità un castello. Questo è sempre l'esempio che faccio io, un grattacielo. Costruisco un grattacielo con un piano regolatore che me lo consente. In quel grattacielo ci sono 5.000 persone che lavorano in modo legale. Cambia amministrazione, cambia piano regolatore, abbatto il grattacielo, porto via le macerie e do un calcio nel sedere a 5.000 persone. Ecco, quello io non ci sto, la Lega non ci sta, ci batteremo fino in fondo. Sono tra l'altro dispiaciuto, che ho visto anche dell'amministrazione, tra l'altro anche quella di cui facevo parte, che probabilmente non hanno capito la bontà di questa legge e il messaggio, proprio perché magari distolti da ideologie politiche avverse, ma oggi io penso che sulla pelle dei cittadini, sulla pelle dei piemontesi, sulla pelle delle famiglie che vivono di quei 5.000 dipendenti che portano a casa uno stipendio, ripeto, legale, non ci si può scherzare. Non si deve guardare la politica, non si devono guardare i colori, ma bisogna andare a guardare in faccia quelle persone che oggi vengono e mi dicono io voglio lavorare, voglio lavorare nell'illegalità. Perché permettete alle coste, permettete a queste persone di agire nell'illegalità? Sinceramente non ho una risposta, l'unica risposta che ho è rifare questa legge 9.2016, riscriverla e riscriverla con dignità, con orgoglio per chi ha pagato le tasse, per chi lavora e per chi mantiene una famiglia nella nostra regione. Proprio con Rivarolo ci sono stati degli attriti con la mozione in cui Roberto Bonomi ha votato contro sulla riforma della legge del gioco legale. Attriti è una parola pesante, in politica ci sono delle divergenze di opinioni, alle volte ci sono quello chiamato lessico politico, dialettico politico, che magari va anche oltre. Io non ero presente a quel consiglio comunale, però mi sono confrontato con il mio amico, il mio caro amico Roberto Bonomi, dove gli ho spiegato quella che era il percorso che io e il mio partito e il nostro partito, perché non dimentichiamoci che Roberto Bonomi è un tesserato militante della Lega Salvini-Piemonte, gli abbiamo spiegato quello che era il percorso intrapreso e lui ha votato contrariamente a una mozione sulla richiesta di non modificare la legge 9-2016. Io sono sempre disponibile a qualsiasi confronto, come dicevo prima, su questo è un tema su cui ci credo fortemente, sarò inamovibile io, sarà inamovibile il mio partito, oggi arriverà, mi auguro, che venga votata a questo disegno di legge, che nel più breve tempo possibile approvi in aula, approvi in aula e anche le minoranze capiscono che è la risposta che dobbiamo dare, dobbiamo cambiare passo, dobbiamo dare una risposta importante ai piemontesi che ce lo stanno chiedendo, perché quando sotto Palazzo Lascaris ci sono tante donne, tante mamme di famiglia che ci dicono non abbandonateci, fateci lavorare, veramente questo deve farci riflettere e deve fare anche riflettere ai piccoli amministratori che o non sono interessati al mondo del lavoro o sposano solo un'ideologia politica. Io ho amministrato con forze politiche diverse ma non ho mai guardato alla bandiera, ho sempre guardato il bene della mia amministrazione, il bene della mia città. Ho visto che in questo contesto o non si sono capiti i principi o qualcosa non mi torna. Ecco, dopo due anni di opposizione qua a Rivarolo, a volte molte critiche, a volte anche molti complimenti, c'è una novità che abbiamo già anticipato prima, che è quella della nuova sede a Rivarolo Canavese. Come siamo arrivati a questo nuovo... Ma su questo devo nuovamente ringraziare il mio partito, perché ha creduto fortemente il Rivarolo come una sede, come un comune importante per poter fare una sede grande, una sede importante, una sede di quasi 150 metri in centro Rivarolo, dove ci auguriamo di inaugurarla nel più breve tempo possibile. Covid permettendo, vogliamo iniziare a trovarci con incontri settimanali su tutte le tematiche, ci saremo, sarò presente io, saranno presenti gli onorevoli del territorio, saranno presenti i nostri amministratori locali, dove diffonderemo quelle che sono le nostre, il nostro lavoro, fatte sia a livello nazionale, sia a livello regionale, che in tutti i comuni dove amministriamo, ma anche dove siamo in minoranza. Ecco, a livello regionale, adesso cambiamo un attimo l'argomento, si è parlato molto del danno subito dagli agricoltori a causa della fauna selvatica, circa 200% dei danni rispetto agli anni precedenti. Ecco, cosa si può fare di più, visto che le proteste continuano ancora, da parte gli agricoltori, e quali sono i soggetti che verranno predisposti per contenere questa... Ecco, questo è un altro tema importante, un altro tema che ho seguito in prima persona, anche qua ritorno su una nomina nazionale che mi è stata data, sono il responsabile nazionale del Dipartimento Fauna della Lega Salvini-Piemonte, la risposta noi l'abbiamo data la scorsa settimana, recependo la sentenza numero 21 della Corte Costituzionale, che amplia lo scenario delle persone abilitate per poter fare gli interventi di contenimento. Ma questo, consentitemi un inciso, noi stiamo subendo una legge, la legge Ferrero, le restrizioni che sono state fatte con la 5 2018, la legge forse più brutta a livello venatorio che l'Italia ha, io l'anno scorso con una decina di emendamenti a prima firma mia, che tutti hanno visto esito favorevole del collegato, votato se non ricordo male il 4 luglio del 2020, hanno visto una prima riforma. Ci rendiamo conto che era una riforma che non toccava la parte contenimento, il contenimento, come ben sapete, la provincia ne è deputata, perché la regione Piemonte ha spostato le competenze alla provincia. Purtroppo ci sono delle province che hanno lavorato bene, ci sono delle province che hanno lavorato meno bene, e i dati sono quel 200% di incremento di danni da fauna selvatica che ci siamo trovati. Devo dire che Torino ha un danno esponenziale, adesso con il recepimento della sentenza numero 21 abbiamo creato questo contenitore, all'interno del contenitore cercheremo nel più breve tempo possibile di inserire le figure preposte a fare questo intervento di contenimento massicce, perché io penso che l'eccesso di ambientalismo non abbia pagato. Anche lì noi arriviamo da una situazione drammatica dove non si potevano pulire i fiumi, dove la caccia era out, dove c'era forse un troppo eccesso a un protezionismo totale. I risultati sono quelli, piene, ci portano via i fiumi, arriva un minimo di rontamenti, passatevi il termine, piove un po' di più e ci troviamo strade allagate, strade che estraripano, perché i nostri nonni ci insegnavano che i fiumi andavano puliti. Il legno dai fiumi bisognava portarlo via, il materiale in eccesso bisognava togliere, capisco l'ambientalismo, però non capisco l'eccesso. Secondo me l'amministrazione, ma secondo me forse è addirittura riduttivo, secondo i dati, secondo quello che vediamo, l'amministrazione che ci ha preceduti ha dato forse troppa importanza al permettere che questa situazione dovesse sfogare. Certamente non ci accorgiamo domani dei danni fatti, se ne accorgiamo nel tempo, quello dei danni da cinghiale, quello delle danni da inondazione, stiamo pagando uno scotto di scelte sbagliate fatte da chi ci ha preceduti. Cambio un attimo argomento, rispetto all'anno scorso molti commercianti stanno lamentando il fatto che non hanno ricevuto alcuni ristori per il mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile. Ecco, rispetto all'anno scorso appunto la regione Piemonte aveva stanziato a fondo perduto, 2.500 euro per tutti i codici a teco. La situazione quest'anno com'è? I ristoratori, i commercianti, tutti i codici a teco hanno bisogno di garanzie, soprattutto in un momento come questo. Ne siamo assolutamente consapevoli, noi proprio perché ne siamo consapevoli oggi, ma ne eravamo consapevoli anche all'inizio di questa pandemia, che sinceramente nessuno di noi poteva capire come, quanto e con che intensità poteva durare. Noi abbiamo fatto una scelta magari diversa da molte altre regioni, perché noi abbiamo dato cash, liquidi, subito per avere un aiuto. Non è che la regione possa permettersi di poter dare continuamente dei contributi, anche se lo vorremmo, noi invece di due vorremmo dare 20, però purtroppo le casse regionali, voi sapete che cos'è il bilancio regionale, dell'eredità pesante che abbiamo trovato, dei debiti che ci siamo trovati, ci sono dei piani di rientro, e stiamo aspettando con ansia di capire quello che lo Stato ci girerà. Quello che lo Stato ci girerà verrà comunque sicuramente ripartito nelle categorie commerciali che hanno subito più danni in questo periodo. Però siamo assolutamente consapevoli che i commercianti e non solo hanno bisogno di aiuti. Io penso che questa sia come una guerra, ripartire da questo Covid è come ripartire da una fine di una guerra. Anche per questo motivo il mio partito ha scelto consapevolmente di essere al governo. Perché io penso che oggi la prima forza di governo non poteva esimersi dall'essere al governo. Capiamo che per qualche voto in più, qualche consenso in più, si poteva dire sto fuori e dico sempre no a tutto. Ma dire no a tutto non si va da nessuna parte, solo stando al governo, anche se avremmo voluto un governo totalmente di centro-destra. Ma abbiamo capito che il Presidente della Repubblica non ci mandava probabilmente al voto. Abbiamo detto è importante essere, siamo la prima forza di governo, portiamo a casa almeno qualcosa di quello che ci siamo prefissati e uno di quelle cose che ci siamo prefissati sono il ristore all'imprenditore, alle partite IVA, chi in questo momento chiede aiuto. Noi, chi chiede aiuto, la porta della Lega Salvini-Piemonte, sarà sempre aperta e sempre lo rimarrà. Anche perché noi siamo stati protagonisti a livello regionale anche dell'episodio di Chivasso che ha suscitato molto, diciamo, sdegno nazionale. Ecco, parlando appunto a livello nazionale, c'è sempre questo astio, tra virgolette, questa nuova diatriba politica che si è creata tra le due principali forze del centro-destra che sono Lega e Fratelli d'Italia, soprattutto anche adesso sul Copasir. Ecco, il dialogo tra Lega e Fratelli d'Italia continua ancora, soprattutto perché a livello locale sono due forze molto presenti e molto forti, quindi è interessante capirlo anche per... Ma io a livello nazionale non so che cosa succede nei banchi romani. Io posso dire che nei banchi della regione Piemonte, con Fratelli d'Italia, è un partner con cui condividiamo quasi tutti i percorsi. Adesso mi auguro che anche loro, su forse l'unico percorso non totalmente condiviso, è proprio questa riforma del gioco lecito. Però io penso che siamo due partiti che rappresentiamo entrambi, magari loro di più, in questo momento si sono inseriti in un momento di no a tutto. Noi, come ho detto prima, abbiamo fatto una scelta, sapendo che andare al governo, facendo delle scelte, dovendo rispettare dei conti, potevamo perdere qualche consenso. Ecco, questo noi l'abbiamo fatto a cuore aperto, come ho detto prima, e questo lo voglio rimarcare, era probabilmente più facile urlare, dire no, dire no, dire no, per avere qualche consenso in più. Noi a questo gioco non giochiamo, noi diamo una risposta all'italiano, all'elettorato, che oggi magari, vedendo i sondaggi, ci dicono che abbiamo perso qualche punto, però abbiamo preso coscienza di quello che noi vogliamo per l'Italia. Io penso che per l'Italia noi vogliamo il bene, vogliamo il bene delle amministrazioni locali, vogliamo il bene del Piemonte, e pertanto non posso risponderti se c'è o se non c'è una diatriba. Io posso dirti che se la diatriba era essere al governo o non essere al governo, noi siamo fautori che dovevamo andare al governo perché siamo la prima forza italiana e non potevamo esimerci da andare al governo, anche se avremmo dato una risposta sicuramente più importante, sicuramente più tecnica, saremmo entrati più nel merito, con un governo totalmente di centrodestra. Io mi auguro che nel più breve tempo possibile l'italiano possa andare ad esprimere finalmente un voto, che il centrodestra governi non solo il Piemonte, non solo la Lombardia, non solo il Nord, ma l'Italia completa. Ecco, come ci stiamo accorgendo, in questi ultimi giorni abbiamo avuto una forte accelerata sui vaccini in quest'ultimo mese. E quindi Matteo Salvini, in una delle sue ultime interviste, ha detto che questa maggioranza, questo governo, non farà le riforme. Le riforme principali sono quelle sulla giustizia e sul fisco. Ecco, l'idea è quella che il governo Draghi, cioè l'operato di Draghi, finisca dopo il recovery plan e dopo i vaccini, oppure che si vada subito alle elezioni, oppure quella di continuare per tutta la legislatura. Come ti dicevo io, non ho la sfera di cristallo, non sono seduto nei banchi di Romani, non posso risponderti a quella cosa, a quella domanda, ma sicuramente ti posso dire che abbiamo dato un'accelerata importante sui vaccini. Ieri in Regione Piemonte sono stati vaccinati circa 40.000 soggetti, se non ricordo male 37.000 circa. Ecco, questa è la risposta che dà la Regione Piemonte. Un'accelerata al massimo per quanto è la copertura dei vaccini. Noi vacciniamo oltre il 90% dei vaccini che ci vengono forniti. Qualcuno dice dovete vaccinare in più, però la nostra forza lavoro sono 10 vaccini, ne usiamo 9,5. di più di quello non possiamo fare, potremmo fare molti di più, se invece di avere 100 vaccini ne avrò 1.000. Però io penso che quasi 40.000 dosi inoculate in un giorno sia una risposta importante. Oggi in Regione Piemonte abbiamo inoculato circa 2 milioni di dosi, anzi abbiamo superato, mi sembra ieri, 2.170.000, non ricordo perché i dati li leggo tutte le sere, ma ho talmente tanti dati in testa che non mi ricordo, però comunque abbiamo sicuramente superato i 2.100.000 inoculazioni. Pertanto ritengo che siamo, anzi non ritengo, siamo una delle regioni che ha una percentuale maggiore. L'unica, secondo me, l'unica strada di uscita è il vaccino. Il vaccino può magari piacere o non piacere, però è forse in questo momento la soluzione unica che conosciamo per venire fuori da questa pandemia mondiale. Quindi per noi piemontesi sarà un'estate tranquilla, tra virgolette? Io me lo auguro, me lo auguro. I dati sono confortanti, io come dicevo prima li leggo ogni sera perché fa parte ormai del nostro quotidiano. I dati ci dicono che abbiamo meno terapie intensive occupate, meno posti letto negli ospedali occupati e devo dire che il Piemonte con orgoglio, lo dico, non ha mai rifiutato in tutta la pandemia un posto letto. Noi non abbiamo mai avuto un paziente che dice io non ho avuto la terapia intensiva. Noi abbiamo avuto una risposta a tutti. Siamo arrivati con una quasi saturazione della terapia intensiva ma ne avevamo predisposto altre. Perciò su quello voglio veramente fare un applauso col cuore in mano al mio collega, l'assessore Luigino Icardi che so che ci passava le notti io lo sentivo, ci sentivamo nelle vari incontri perché purtroppo li facevamo solo qualcuno tramite web ma ci trovavamo continuamente e so che lavorava veramente come si dice veramente giorno e notte per poter far sì che il Piemonte abbia avuto questa risposta ritengo importante. Purtroppo ci sono state delle situazioni che anche noi non pensavamo c'erano questi focolai che scoppiavano qua e là ma devo dire che comunque ancora un plauso alla sanità piemontese che le ha gestite e le ha gestite in modo oculato. Claudio Leone grazie mille per questa intervista. Grazie a voi è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik. Grazie.